buongiorno a tutti finalmente è giunto il momento di aprire il canale youtube tanto desiderato almeno da me purtroppo per vari impegni lavorativi non ho potuto aprirlo prima allora ci tengo a precisare questo è un canale per imparare a dipingere insieme che significa significa che faremo dei veri e propri progetti cioè comincieremo dei lavori e li porteremo a termine insieme quindi seguire questo canale alla fine vi porterà ad avere un lavoro completo allora cominciamo illustrandovi le stoffe che io uso i tessuti che prediligo prima di tutto il lino come potete vedere voi avete visto anche sul mio profilo il tessuto che più amo e il lino perché perché un tessuto a trama stretta che ci permette come potete vedere qua con questo cuscino ci permette di dipingere facilmente e allora questo è un bisso di lino e il lavoro viene il dipinto viene etereo quasi leggiadrono come potete vedere qui poi c'è il lino classico ecco qua io vorrei insegnarvi quello che ho imparato da sola quindi le tecniche che considero più facili per raggiungere questi questo un tipo di obiettivo non dico questo però potete anche raggiungere altri obiettivi quindi questo è il lino classico ecco mi faccio vedere con la mano questo è un lino classico che potete trovare un po ovunque mentre il bisso già è un lino un po più particolare se dovete fare delle cose particolari poi sceglierete voi il tipo di tessuto che più vi piace allora poi c'è questo che è un cotone potete vedere un cotone normale normalissimo cotone e anche questo è un cotone vi faccio vedere sempre con la mano così è un cotone che sempre a trama stretta che si potrà usare per tranquillamente per dipingere quindi se avete in casa delle stoffe che più o meno se si avvicinano a queste qua va benissimo allora il subito di lino il disegno il dipinto viene così molto leggero vedete le mani in trasparenza questo invece è un lino classico già più ha più definito il disegno e poi il dipinto sul cotone avete visto che è questo qui con la lettera i pennelli passano ai pennelli i pennelli che uso io personalmente sono i da vinci poi chi vorrà procurarsi proprio questi pennelli se avete difficoltà me lo dice che vedi proprio i pennelli che uso io se ne da vinci perché li trovo ottimali da quando ho cominciato questa avventura con le stoffe io trovo che questi pennelli siano veramente il top quindi ci servono pennelli medi questo qua un po un po più grandi ancora un po più grande e uno piccolo per le rifiniture che potete trovare nei negozi di belle afti penso ovunque se non ci sono proprio questi dovete cintoretto troverete comunque dei pennelli adatti per la stoffa io vi consiglio caldamente di procurarvi un telaio ecco un telaio che vi aiuti a tenere la stoffa ferma ecco tenere la stoffa ferma vi permetterà comunque di avere una base ecco una base precisa su cui lavorare ovviamente poi dovete stringere lo dovete regolare voi i colori che io uso su di giovanna creole però nelle nei negozi di belle arti potete trovarne diversi per dipingere sul tessuto se voi sempre se avete difficoltà e volete avere proprio queste tonalità perché dipende poi dalla dalla qualità del colore avere certe tonalità oppure no e questo è quello che ci serve allora affronteremo un progetto alla volta io voglio cominciare dai fiori perché ci sono fiori difficili allora le rose io le ritengo molto difficili ecco qua faccio vedere la luce però potremmo cominciare delle rose più semplici non è detto che bisogna cominciare dalle cose più difficili potremmo cominciare dalle rose più semplici anche dalle cifre potremmo cominciare quindi io in questi giorni preparerò dei progetti da fare insieme e cominceremo e chi seguirà il canale avrà un lavoro finito nel senso che cominciare con questo progetto e lo porteremo a termine voi potete fare poi questi dipinti li potrete fare su su vari tessuti che potranno diventare ecco qui ci sono altre rose bocciole di rosa che potrete fare anche su tovaglie o quello che vi aggrada anche tende ecco vi faccio vedere questo è un lino classico no classico anche più facile da dipingere però con il telaio abbiamo comunque una superficie ferma che ci permette sia di mettere a posto il lavoro per poi ricominciare un altro momento mentre la soffa e dovete stare attenti anche a non metterle molto piegate perché sono stoffe delicatissime ecco potremmo cominciare con dei delle rose un po più semplici tipo questa qua tipo questa qua oppure con dei boccioli di rosa tipo questi in questi giorni preparerò quindi dei boccioli di rosa e cominceremo a dipingere queste rose poi passeremo alle foglie perché la una delle parti delle cose difficili a dipingere sono le foglie mi piace allora io vorrei insegnarvi ad ottenere queste tonalità perché non è non mi piace usare il colore così come lo vediamo nel bocaccetto mi piace avere delle tonalità molto molto particolari tonalità che vengono che vengono ottenute grazie a delle miscele con dei colori particolari e quindi uno magari non pensa che per avere questo verde bisogna usare cinque colori non è il verde che vediamo eccolo che la luce ecco non è il verde che prendiamo dal barattolo per avere questo verde bisogna usare almeno cinque tonalità vi faccio ecco vi faccio vedere questo è un lavoro guardate la differenza è un lavoro su un lino normalissimo un lino normale sarà bello poter fare anche asciugamani cominceremo ovviamente a fare delle cose piccole per poi poter fare qualunque cosa allora ricapitolando tutto stoffe ci servono delle stoffe ci servono dei pennelli almeno di tre diverse dimensioni poi i colori quelli che trovate li potete anche ordinare da internet o quelli che trovate in giro io uso i giovanna treul poi ci servono le stoffe un telaio per chi non può avere un telaio non può trovare un telaio la stoffa verrà potrà essere anche messa con dello scotch diciamo ai laterali e quindi in modo da tenerla ferma perché è importante almeno all'inizio tenere ferma la stoffa altrimenti diventa veramente molto difficile delle stoffe così delicate tenerle ferme per poter fare un dipinto anche perché i dettagli questi che vedete questi qua i dettagli no bisogna farli avendo la stoffa ferma non solo la mano ferma ma anche la stoffa perché è importante altrimenti le linee vanno fatte precisamente in certi punti non vanno fatte linee gradi ma veramente delle linee piccolissime che vanno a delimitare a delineare il disegno per avere un dipinto veramente quasi in 3d quindi un dipinto veramente molto molto particolare ecco questo è il mio intento insegnarvi alcune alcuni dei segreti alcune peculiarità anche dei dipinti che vi permettano poi di raggiungere certi livelli vorrei insegnarvi quello che io ho imparato dipingere io l'ho scritto molte volte sul mio profilo ed è la realtà dipingere è sempre un'emozione che ci permette di non solo di rilassarci mentalmente e quindi di isolarci in un mondo tutto nostro fatto di colori fatto di pennelli fatto anche di momenti di pausa isolarci da problemi e altro ma non solo è questo ma è proprio cercare di imprimere di mettere nel dipinto qualcosa di nostro qualcosa veramente qualcosa della nostra anima che quello guardi ti dà sempre la stessa sensazione ti ricorda quel momento che tu hai hai dedicato ai colori dell'anima ecco qualcuno ha detto chi dipinge si avvicina a dio perché è veramente un'emozione grande io vorrei insegnarvi questo più per le oltre che le tecniche vorrei insegnarvi questo a mettere nei dipinti un po di voi a dedicarvi a ritagliarvi questo spazio tutto per voi quindi vorrei fare un canale dedicato anche a questo cioè ad avere qualcosa che ci permetta di stare bene perché alla fine è questo dipingere questo dipingere è stare bene dipingere e curare anche un po della nostra anima io vi ringrazio se volete vorrete seguire questo mio canale grazie anche se volete spargere la voce perché il prossimo il prossimo video sarà proprio cominciare a dipingere insieme grazie mille